Sì, sono un camorriso napoletano. Mi hanno sparato mezz'ora fa. Non sono abituato alla prima volta che muoio. Mi vorrei pure avviandare, capito? Come si passa la giornata qua? Guardate, ci sono tre inferni. L'inferno tedesco, l'inferno francese e quello napoletano. Scegliete dove volete andare. Eh sì, eh. Ma me lo faccio dai tedeschi perché non ci sono mai state. E poi non si paga, eh. Andate, andate. Eh, sto chiedendo. Tatti cambia, capito? Andate, andate. Sì, sono un camorriso napoletano. Mi hanno sparato mezz'ora fa. Vuolessi sapere come si passa la giornata qui sopra? Qui, tutta mattina, frustato dietro alla schiena, mazzi con i cani e i chiodi dietro alla testa, e poi tanta merda, ma tanta merda in pace. Qua tutte le mattine danno delle frustate dietro alla spalla che non hai idee. Poi t'hanno una mazza che i chiodi dietro alla testa, e poi tanta merda, ma tanta merda in pace. Gesù. E tale qualità, Gesù? Tale qualità dico. Eh, ma c'è una volta manca la frusta, una volta manca la mazza, una volta manca la merda.